Adi, associazione per il disegno industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo. È sempre molto interessante capire come le eccellenze italiane e le aziende si rapportino alle associazioni. Noi italiani siamo un popolo di molte teste, individualisti per alcune cose, però quando riusciamo a fare seriamente cartello andiamo in maniera compatta, non solo all'estero ma anche a innalzare il valore del progetto, il valore della produzione e tutte le persone che collaborano a innalzare questa qualità. Allora la prima domanda è relativa al ruolo dell'Adi che negli ultimi anni si è resa molto più flessibile, presente e attenta rispetto alle aziende e non solo. Per noi che siamo un'azienda produttiva di articoli di design, che li portiamo e li distribuiamo in tutto il mondo, è fondamentale questo ruolo. Quindi distribuiamo i nostri e portiamo il made in Italy, il saper fare italiano, in oltre 110 paesi nel mondo. E questo legame con l'Adi è partito per noi nel 2011 con il compasso d'oro di Frida e il fiore all'occhiello di questa collaborazione, di questo legame che abbiamo. Io vi conosco da un po' di anni e vi conosco come azienda capace di intercettare le necessità del mercato, di lavorare tanto sui numeri ma da tantissimi anni anche sulla qualità. Non è detto che il numero e qualità non vadano d'accordo, avete chiamato grandi designer, state collaborando con grandi architetti. Quanto conta il brand del progetto? Cioè quanto conta avere dei designer che hanno un nome, un architetto che ha un nome? È più un discorso di brand o un discorso di empatia, di essere vicini dal punto di vista progettuale a chi collabora con voi? È fondamentale il brand, il designer, ma è fondamentale l'azienda, è un 50% ciascuno. Quindi il saper ricercare il prodotto, quello che ci propongono questi designer anche internazionali con cui collaboriamo, però abbinato poi al nostro saper fare. Noi all'interno dell'azienda lavoriamo l'acciaio, le materie plastiche, il legno, i pannelli e il nostro know-how abbinato con quello che ci sanno portare questi designer e poi scaturisce il prodotto che è il successo da cui deriva il successo della Pedrali. Una cosa molto importante, soprattutto per noi italiani, è l'identità, l'identità che significa tradizione, storia anche in tempi brevi, perché se parliamo di design sono decenni, ma l'identità spesso è messa anche in risalto dalle associazioni. Non è detto che far parte di un gruppo sia un uniformare le identità. Se dovessi chiederti qual è la vostra vera identità, in parte hai già detto che lavorate molti materiali, avete impiantato nuove linee, avete investito, lo sappiamo, in produzione per controllare, immagino, il processo produttivo. Però se dovessi dire qual è la vostra identità rispetto ad aziende competitor, non solo italiane, anche straniere, che cos'è che vi distingue dagli altri? Beh, ci distingue il saper fare, quindi noi portiamo il Made in Italy, ma soprattutto il Made in Pedrali, e invitiamo tutti i giorni i clienti a vedere il saper fare delle nostre maestranze. Abbiamo persone che sanno lavorare il legno, che sanno lavorare l'acciaio, e vedere di persona il saper fare italiano e portarlo in giro per il mondo fa la differenza. Solamente in questa maniera possiamo, come comparto di Paese Italia, di Federlegno e anche di Adi, comunicare all'estero quello che sappiamo fare e come lo sappiamo fare. Da sempre l'Italia è un'eccellenza e noi siamo in prima fila per portarla in tutto il mondo. Se dovessi pensare a qualcosa che l'Adi possa mettere in campo, noi stiamo facendo adesso un progetto di comunicazione, in un certo senso, ma ovviamente rispetto ad anni fa l'associazione è molto più presente nei tavoli dove si decidono alcune cose anche a livello politico, è presente nelle scuole nel creare un vero e proprio sistema, una rete. Se dovessi chiedere a l'Adi, e poi siete voi, qualcosa in particolare, dove punteresti la prua della nave, diciamo così, della barca? Partire dalle basi, comunicare, far conoscere a tutti che cos'è il disegno industriale, il saper distinguere la qualità, il fatto di non puntare sulle coppie ma sugli originali, magari è una cultura molto più presente nei paesi nordici e poco presente in Italia, quindi partiamo dalle scuole, quindi potrebbe essere quello. Finisco davvero, avete dei premi, dei riconoscimenti molto importanti, pur essendo un'azienda relativamente giovane è tempo anche di pensare al tramandare la cultura, si è inaugurato il museo da triennale, stiamo lavorando a quello dell'Adi, nel museo del design intendo, ci sono i musei di impresa, se tu dovessi immaginare un'istituzione, un luogo, penseresti più a un museo diffuso, a tanti punti, sempre gravitanti su Milano, o ti piacerebbe avere uno, massimo due luoghi, quindi la triennale e il museo del design, oppure un'istituzione che rappresenti voi aziende? E quale sarebbe il vostro ruolo in questo, oltre a dare i pezzi ovviamente? Ma io ritengo che uno o due, massimo, sarebbe sufficiente, bisogna fare delle cose davvero importanti, fatte bene, farne troppe, poi potrebbe essere dispersivo e quindi accentrare tutti gli investimenti in un unico posto per farlo davvero diventare il museo del design, non solo italiano ma internazionale. ADI, associazione per il disegno industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo.